Il bicchiere è mezzo pieno perché il Napoli nei primi 20 minuti del primo tempo ha realizzato due gol. Mezzo vuoto perché comunque ha fatto riaprire la partita al Catania che è riuscito a segnare tenendo sulle spine gli azzurri fino al novantesimo. Cali di attenzione, troppa sicurezza o lacune in difesa se lo chiedono i tifosi e se per alcuni bisogna fare dei nuovi acquisti, per altri, nonostante questi piccoli errori, il Napoli quest'anno è sulla strada giusta. Il Napoli dovrebbe fare degli acquisti quest'anno, infatti contro la Fiorentina si è visto che nel Napoli c'è una mancanza di palleggiatori al centrocampo. Secondo me ce la facciamo, vista anche la partita ieri come ha giocato la Roma penso che abbiamo grandi possibilità. Abbiamo solo un po' in difesa, fare qualche rinforzo in difesa, siamo benissimo così. È un gran Napoli. Secondo me il Napoli quest'anno è una squadra che è stata costruita per lo scudetto, quindi secondo me ce la farà fino alla fine. A prescindere dalla difesa, sappiamo che il settore è più in crisi del Napoli, guardiamo anche il centrocampo che comunque sta funzionando e l'attacco è comunque uno dei più forti in Italia al momento. Sappiamo degli acquisti che dovrebbe fare il presidente adesso a gennaio per quanto riguarda il settore difensivo, si spera che si migliori sempre di più. Per la sfida in Champions invece non ci sono dubbi. Battiamo il Marsiglia, battiamo l'Astrono e portiamo contro il Borussia. Penso di una vittoria, una vittoria molto secca, anche perché siamo molto superiore al Marsiglia. Qua si gioca la partita della qualificazione, ma secondo me massimo 2-0 e Napoli vince.